Allora, da compaesano di Leo Longanesi Devo dire, devo premettere che è uno scrittore che è molto particolare, Leo Longanesi Rappresenta in effetti Begnacavallo, è stato omaggiato spesso qua al teatro, mi ricordo qualche anno fa Non tutte le sue opinioni sono condivisibili Però è un autore da leggere sicuramente Sono io che ringrazio l'IBC perché mi ha dato l'opportunità Siamo alla finale, domani c'è l'ultima a Follimpopoli Dove abbiamo toccato tutte le province dell'Emilia Romagna Da Piacenza fino a Rimini, Forlira, eccetera Scegliendo una biblioteca Entro la quale leggere poi un libro che è presente nella biblioteca O un personaggio di quel posto È stato scelto, io non ho scelto nulla È stato scelto Begnacavallo per Ravenna E i testi sono stati scelti dall'IBC È per quello che ringrazio maggiormente l'IBC perché ho avuto l'occasione di leggere dei testi Che io non avrei mai letto in vita mia Tipo l'ultimo, Piacenza Piacenza non aveva, pare di aver capito, grandi autori nella biblioteca di Piacenza Che è una biblioteca stupenda Quindi mi hanno costretto a leggere Melchiorre Gioia Chi di voi conosce Melchiorre Gioia? Io mi ricordo che ci sono le vie, Melchiorre Gioia, piazza Melchiorre Gioia Là naturalmente Piacenza è intestata alla biblioteca, è intestata delle vie, eccetera Era un illuminista della fine del Settecento Però è stata la serata o la lettura più impegnativa che ho fatto Perché era un saggetto filosofico scritto nel Settecento Quindi immaginate che non è proprio Dopo ho dovuto interrogare gli uditori O dire se avevano capito bene Su quello che stavo leggendo In questo caso invece la lettura è molto più semplice Una parte è un diario È un diario proprio con la data La giornata in cui ha scritto quello che ha scritto Poi un'altra parte piccola È una narrazione, un racconto E nel diario stesso ci sono delle narrazioni C'è una frase che riporta Longanesi nel suo libro di Grimm Che dice così Anzi anticipa Un giovane elefante di 5 anni Destava la curiosità dei parigini Duclos giorni fa diceva Signori parliamo dell'elefante È la sola bestia di una certa importanza Di cui si possa parlare in questi tempi Senza pericolo E il titolo appunto è Parliamo dell'elefante Come dire Parliamo di cose Di cui magari non c'è timore Che qualcuno Invece ci sono alcune cosette Tipo 1938 Siamo in pieno fascismo Proprio al massimo livello Il 2 marzo Certo Il fascismo conosce i nostri lati deboli È la sua sola forza Così dice B Naturalmente lui mette Non mette i nomi A volte leggerò F B B B C C Che sono nomi che lui non ha inteso mettere Il 18 marzo scrive Io avevo dimenticato i colori dei miei paesi Ed ora mi appaiono come li vidi fanciullo Lugo, bagnacavallo, Alfonsine Ad ogni stazione ritrovo una Romagna perduta Che il tempo non ha invecchiato Ritornano all'orecchio le voci degli anni lontani Le cadenze familiari dei facchini nelle stazioni I viaggiatori sono sempre gli stessi ciarloni Ed espansivi personaggi della terza classe Tutti amici che riprendono i discorsi interrotti al mercato È davvero in treno che la Romagna si tiene unita In treno si ha notizia d'ogni luogo D'ogni famiglia D'ogni affare E se le notizie sono brevi E già risapute Allora il romagnolo Ama discorrere di problemi grossi Di argomenti difficili Ripete, vecchi luoghi comuni Azzarda paragoni storici Ricorre ai pochi ricordi di vecchie letture O di conversazioni con uomini illustri Perché ogni romagnolo Ha sempre conosciuto un uomo numero uno Come susa dire E di lui si fida più che del Vangelo E qui bisogna notare che nei nostri paesi Per essere ascoltati Basta esercitare una professione liberale Leggere gli articoli di fondo E sapere all'occasione Spiegare una parola difficile come Parastatale Ad esempio Simultaneo Oppure Concomitante Se una di queste parole Entra nell'orecchio di chi va ascolta Allora non gli sfuggerà più A distanza di anni La ripeterà anche quando meno occorre Come piacciono alle parole difficili Ai miei compaesani Un tempo Ricordo Bazzicava per casa un sensale Che udita non so da chi Da chi di noi Una parola Tipo Analogo La ripeteva ogni cinque minuti Per intercalare il discorso Analogo qua Analogo là Diceva Analogo è una gran bella parola Sì i miei cari compaesani Sono tutti un po' illuministi E danno il gusto del sapere Vogliono sempre sapere qualcosa di più Di quel che gli occorre per vivere E questa È la loro vera disgrazia Si informano come possono E una volta informati Poveretti Sono così candidi Da credere fino alla morte A quello che sanno Se voi spiegate A un vostro vicino In treno Chi era Carlo Magno Ecco Che quel bravo viaggiatore Appena ritrovati gli amici al caffè Discorrendo del più e del meno Ricorderà Carlo Magno E lo renderà colpevole di Mentana 22 marzo La noia segue l'ordine E precede le bufere 16 giugno Fra vent'anni Siamo sempre nel 38 Fra vent'anni Nessuno immaginerà i tempi Nei quali viviamo Gli storici futuri Leggeranno giornali Libri Consulteranno documenti D'ogni sorta Ma nessuno saprà capire Quel che ci è accaduto Veramente Come tramandare Ai posteri La faccia di F Quando è in divisa Di Gerarca E scende dall'automobile 17 giugno Cercate di essere sincero Guardatevi nel profondo Afferrate la vostra coscienza Non abbiate timore di giudicarvi Bisogna di tanto in tanto Purgare la propria anima Mi dice così Bici Un onesto signore di 50 anni Amico di famiglia E continua Poi crederete che si tratti Di politica Che io abbia una crisi Come tanti No mio caro Si tratta d'altro Oggi È uno di quei giorni In cui Sono solo Con me stesso E ho un peso Qui Sulla coscienza Che mi infastidisce Allora Ci sediamo in giardino E il signor Bici Guarda lontano Con occhi assenti Dico Sento che lei Ha qualcosa da raccontarmi Si mio caro Sospiri il signore Con estrema malinconia Dovete sapere che io All'età di 20 anni Ero un giovane allegro Vivace Contento di vivere Uno studente Che non studiava Avevo la parola facile Gli occhi accesi E le donne Non mi costava fatica Conquistarle Bastava che io Le fissassi un po' Poi Con due frasi Bendette E le mani Allungate A tempo giusto Tutto era fatto Ero allegro Spensierato Ripeto Più amico del diavolo Che dell'acqua santa Ebbene Una sera Era giugno Ricordo E I miei Erano già in campagna Chissà perché Forse perché Le mie amiche Non erano più incinta O perché Il caldo Era stato Quel giorno Più pesante O perché Di tanto in tanto Il male bussa Alla nostra porta Diceva dunque Che una sera Oh Misi Gli occhi Sulla nostra serva Doveva partire L'indomani Per raggiungere I miei in campagna Fino a quel momento Non l'avevo mai guardata Si può dire Era una bionda Slavata Quarantenne Col viso lentigginoso Gli occhi un po' cerchiati Da una leggera Congiuntivite Le labbra palide Screpolate Senza contorno Sottili Logore Come le asole Di una vecchia giubba No Non era ripugnante Forse ho un po' esagerato Nel descriverla Aveva un bel seno Gonfio I fianchi larghi Ma le gambe Ben fatte Si Credo che Tutto accadde Per colpa delle gambe Lei era morta La sorella da pochi giorni Era in luto E portava le calze nere Ecco Devo dire che Fin da allora Le calze nere Specie quelle di cotone Che fanno le gambe Più tonde Più spesse Più solide Devo dire che Le calze nere Mi sono sempre piaciute Non siete di questo parere? Con le calze nere Una donna Una donna con le calze nere Non mi deve venire vicino Dicevo dunque Che quella sera Ero in terrazza al buio E guardavo giù nella strada La gente Mangiare il cocomero A un tratto Mi venne in mente Che la serva Aveva le calze nere Perché le era morta la sorella Fu un pensiero rapido In giustificato In giustificato Improvviso Mi voltai E guardai Nella cucina illuminata Sì La serva Aveva le calze nere Di cotone nero Allora Mi galoppò in testa Il desiderio Di quella donna Le orecchie Mi si infuocarono E il cuore Cominciò a battermi forte Come se stessi Per compiere un delitto La minta Si chiamava così La serva Asciugava i piatti E guardava Dalla mia parte Con occhi Assenti E stanchi Ma Fu subito Sorpresa Dal mio sguardo Come una rana Dalla luce Di una lampada Così Capì all'istante Che io Non ero Lo stesso uomo Di cinque minuti prima Lei lo capì E pensò Subito Che eravamo Soli in casa E che io Avevo qualche idea Strana In testa Intuì Lei Che qualcosa Poteva accaderle Ma nel contempo Non voleva credere I suoi dubbi A minta Sembrava Dicessero i suoi occhi Non lasciarti Cogliere da paure Ridicole Allontana Questi sciocchi pensieri Sbagli Sbagli Ma Sentiva Di non sbagliare Ed era Era tratta Più che dal mio sguardo Dalla situazione Dal momento Come dire Era caduta Nel mio momento Voi lo sapete Ogni uomo Ha sempre Un momento Accanto Ad una donna Del quale Può coglierla Senza fatica L'importante Era raggiungere Quel momento Non farselo Sfuggire Forse È questione Del luogo Dell'ora Della stagione Non so Ma Il nostro momento Viene sempre E La minta Aveva sentito Che era perduta Che era entrata Nella mia Costellazione Costellazione Tentò Una difesa Signorino Disse Ma Era tardi Troppo tardi L'indomani mattina In campagna Ricordate di avere Veduto in casa Una vecchia Serva Una vecchia Cuoca Una sera Le parlaste In giardino Ricordate Sì Ebbene Quella Era la minta Ed è morta Stamattina Voi mi capite Io Sono un uomo serio Ho dei figli Sono vecchio Ormai E Quando dico Che un peso Mi preme Sul cuore E che la coscienza 27 luglio Finisce lì Gira Pagine Siamo al 27 luglio E' chiaro che Lui ci lascia A noi La possibilità Di aggiungere Quello che vogliamo Il raccontino E' molto interessante Perché ti mette In una condizione Di Di che cavolo Stiamo parlando Cos'è la coscienza Di che Parla questo Trent'anni dopo Eccetera E siamo nel 38 Comunque 27 luglio Sono fanatici Ma non senza Conservare qualche Amicizia nel campo Avversario Non si sa A quale parte Si riferisca 28 settembre Sua eccellenza E' fuori posto Mi dice L'uscere Lo so Lo so 10 ottobre 10 ottobre Ritrovo Diversi appunti Che scrissi Anni fa Su quell'uomo Disgraziato E portentoso Che fu Spezzafumo Il suo cognome Lo rispecchiava Con fedeltà E ironia Quando lo conobbi Aveva già 50 anni Che per i bianchi Gli occhi celesti Venati di rosso E una continua barba Di tre giorni Ebbe sempre fame Camice stracciate Calzoni rattoppati Le dita sporche D'inchiostro Non portò mai Il cappotto E soffrì Per tutta la vita Un freddo cane Bugiardo Spaccone Sentimentale Viveva Di piccole truffe Indolente Si fingeva Uomo d'azione Sapeva a memoria Il purgatorio E barava Alle carte Bestemmiava Dormiva Nei postriboli Andava a messa Però Anarchico Accompagnò Mussolini Alla marcia Sul Roma Quando non sapeva Dove trovare Un pezzo di pane Fuggiva a gardone Dal comandante Era stato compagno Di scuola Di D'Annunzio Diceva E vendeva Dietro versamento Di 100 lire Una fotografia Del poeta Soldato Con firma Autografa D'Annunzio Non lesinava Al vecchio amico Questi favori Il fascismo Apparì in Emilia Si può dire Con spezza fumo Egli infatti Fu uno dei suoi primi Propagandisti Molti uomini Che divennero più tardi Capi del regime Si servirono di lui Per aprirsi la strada Correva da un paese All'altro A pronunciare discorsi A presentare reduci Che poi divennero Gerarchi Additava Le loro medaglie Come i venditori ambulanti Mostrano le merci Nelle fiere I suoi discorsi Erano brevi e chiari Le sue immagini colorite Le sue invettive Penetranti Alzava sempre tre dita E diceva Ecco i nostri punti Chi siamo E che cosa vogliamo Due Chi sono i nostri nemici E tre Perché vinceremo La sua voce Era sonora I suoi denti neri E radi Quando Lo 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 fischiavano Perché poteva succedere Lui sorrideva Tutti Si servirono di lui Da Mussolini Ai gerarchi minori Ma Nessuno Lo sfamò Spezzafumo Era un bohemian In una notte Si mangiava Quel che altri Spendeva in un mese Tutti sapevano Che Spezzafumo Prima o poi Chiedeva 50 lire Ma si coltettava Anche di 10 Di 5 Di 3 lire Per ringraziarsi Gli amici Diceva bugie Inventava Storie straordinarie Giurava il falso E piangeva Perfino Non era certamente Un fior di galantuomo Ma Il fascismo Che aiutava Qualunque avventuriero Non lo sfamò Non gli dette Nemmeno Un pastrano Spezzafumo Non era austero Le sue bugie I suoi progetti Erano Troppo pittoreschi Per piacere Al regime Ecco alcune sue frasi La giustizia È burocratica E la burocrazia Si corrompe Oppure Abbiamo sempre cercato Di essere onesti Ma Questa onestà Non ci frutta nulla Ci si ingrassa Di onestà E si muore di fame Si va in guerra Perché restare a casa È da vigliacchi E la vigliaccheria È più penosa Della guerra Io però Sono uno scarto Di leva Quando ero ragazzo Dicevo La mia patria È il mare Perché al mare Trascorrevo le vacanze Gli uomini Si valutano Per i piaceri Che negano in pubblico Infine Io sto al mondo Per vedere Come andrò a finire E finì Stecchito dal freddo Alla stazione Lo portarono All'ospedale Che era già morto 11 dicembre Sono un carciofino Sott'odio Pensavo fosse un refuso Ho pensato invece Che l'è detto Da Leo Longanesi Era proprio così Un carciofino Sott'odio 15 dicembre Fanfare Bandiere Parate Uno stupido È uno stupido Uno stupido Due stupidi Sono due stupidi Diecimila stupidi Sono una forza storica E' una costante storica 16 dicembre Alcuni bimbi poveri Discorrono con altri bimbi ricchi Dice Dice un bambino ricco La cicogna Ha portato A nostra mamma Un bel fratellino Dice un bambino Povero Noi siamo poveri E nostra madre Invece I bambini Li fa da sole In casa 17 dicembre La vecchia principessa Di San Faustino Che in gioventù È stata molto amica Di Axel Munte Mi racconta Questo aneddoto Axel Era davvero Un uomo straordinario Elegante E estremamente intelligente Ho conosciuto pochi uomini Che piacessero tanto Alle donne Quanto lui Ed era l'unico medico Che sapesse curarle Una volta Due signore quarantenni Vennero a Roma Dall'America Per avere le sue cure Soffrivano Di non so quali Strani disturbi Psicologici E sai come Munte Le curò? Ogni giorno Le spogliava E le prendeva A calci nel sedere Ah Le conosceva lui Le donne Questa era la vecchia principessa Di San Faustino Che diceva così 19 dicembre Non disturbati Il cretino Che lavora 20 dicembre La parola pompiere È stata messa al bando D'orinnanzi Si dovrà dire Vigile del fuoco È un ordine personale Di Mussolini Ordine che piace a tutti Accontenta D'annunziani E socialisti Ancora oggi Si usa Vigile del fuoco Che pompieri 1939 Siamo al 19 ottobre Seduto al caffè biffi Ascolto i discorsi Dei miei vicini di tavolo Uno dice Vede La perla dell'impero inglese Cioè l'India Noi Ce la papperemo In un baleno Lei crede davvero? Domanda l'altro Ma certo È questione di tempo I popoli ricchi Sono vecchi Stanchi Hanno già fatto Il loro tempo È la nostra ora Mi volto Per vedere La faccia Di quel Fiero campione Del nostro nazionalismo E incontro Uno metto Sui 50 anni Smunto Il colletto Sgolcito Gli occhiali di stagno Un povero diavolo Il nazionalismo È davvero L'unica consolazione Dei popoli poveri E dei poveri popoli In Italia Saremo sempre nazionalisti Qualunque cosa accada Di uomini come il mio vicino Di tavolo Debbono essere Pure alimentati Da un ideale E chi può fornirglielo Se non La patria 20 ottobre Brancati Mi racconta Il mese scorso Tre ebrei Un giovane Una ragazza Ed una vecchia signora Fecero colazione In una trattoria Di Catania Mangiarono Lentamente Presero il caffè E lasciarono Una buona mancia Al cameriere Poi Noleggiarono Una barca A remi E andarono A largo Li trovarono Più tardi Tutti e tre Annegati La vecchia signora Prima di uccidersi Aveva riempito La propria borsetta Di Sassolini E se l'era legata Al polso Siamo nel 39 1941 12 gennaio I gerarchi Chiamano Mussolini Lui Gli italiani Chiamano i gerarchi Loro 6 agosto In casa Cecchi Lunga conversazione Con un banchiere Il quale sostiene Che la Germania Vincerà la guerra Perché possiede Molto manganese Tolto ai russi E' possibile Vincere una guerra Soltanto per il manganese? Domando Ma lei Sa cos'è il manganese? No? E allora Cosa vuole discutere? Mi taccio Corro a casa Per aprire il vocabolario 10 agosto Molti cantano La canzone Vento Invece di Invece di dire Vento Portami via con te Dicono Vento Portalo via con te Siamo nel 41 Comincia Il peggio 11 agosto Cena col maggiore C I gradi Gli stivali E gli speroni Soprattutto Questi Gli rendono Dieta l'esistenza Egli discorre Con l'autorità Di chi sa Molte cose segrete Si sente qualcuno Il tono Della sua voce Quando dava del tu Al cameriera Era insopportabile Cosa ci dai Di buono Me lo garantisci Confidenziale Autoritario Mi aspettavo Che tagliasse la bistecca Con gli speroni 27 agosto La signora F Inglese Ci racconta Che dopo un bombardamento Inglese Sul Napoli Una visitatrice fascista Molto zelante E orgogliosa Della propria missione Capitò in un cortile Popolato di inquilini I quali Pieni di sonno Protestavano Contro la guerra La visitatrice intervenne Cominciò a disporre Le giuste ragioni Che ci avevano Spinti alla guerra E finì elogiando Mussolini E se non ci fosse stato lui Dove saremmo adesso? Concluse la visitatrice fascista Una vecchia Lì accanto Sospirò Gopuletto 29 agosto A mi racconta Tempo fa Durante la sessione Degli esami A Faenza Venne un ispettore Da Roma Proprio nella classe Di mia sorella Maestra Chiamato un bambino Gli disse Chiudi gli occhi Atteso un attimo Poi domandò Che cosa vedi? Il bambino rispose Che non vedeva nulla Assolutamente nulla Allora L'ispettore Indispettito Volgendosi alla maestra Islamò Come non vede nulla? Deve vedere il duce 2 ottobre Cesarini Di ritorno Dalla Croazia Racconta Con disgusto Che ha vissuto Per sei mesi Sempre Tra fucilazioni Imboscate Atti di Tortura Violenze Di tanto in tanto Diceva Veniva Veniva l'ordine Di fucilare 50 o 60 Prigionieri Croati Ma non ne avevano Più di 10 o 12 Nelle prigioni Come fare? Allora si udivano I colonnelli Telefonare I colleghi Alla ricerca Disperata Di poveri Disgraziati Da fucilare Senti Hai qualcuno Da mandarmi Qualche croato Da darmi Prestamane almeno 10 La settimana ventura Poi te li restituisco Mi fai un vero piacere Non so proprio Come fare Così Si racimolavano Una quarantina Di poveretti E si fucilavano Il signor Colonnello Tirava un respiro Aveva compiuto Il suo dovere 3 ottobre Una frase Che mi ha sempre Turbato Fin dal ginnasio Prendiamo Un punto All'infinito 4 ottobre Che cosa Fa il papa Si domandano Alcuni Che cosa Può fare Il papa Rispondono altri Nessuno Pensa che Il papa Ha troppe cose Da perdere Per essere Un vero papa 3 novembre Che cosa Pensano Gli italiani Difficile Dirlo Oltre Alla preoccupazione Di trovare Generi alimentari Al malumore Per i cattivi Servizi Di locomozione Non si può dire Che gli italiani Siano molto afflitti Certamente Non v'è ottimismo In giro Ma neppure Avversione Al regime Si si contenta Di non morire In guerra La guerra È molto lontana Si spera Che gli inglesi Non vengono A bombardarci La guerra Sarà lunga Dicono tutti Ma nessuno In realtà Lo crede Fermamente Si ha molta fiducia Nella nostra Incapacità 4 novembre La paura La paura del bolshevismo È scomparsa La borghesia Ha tirato Un grosso respiro Ed ora Spera Vagamente Senza sapere Di preciso In che cosa Ma spera 5 novembre In fondo In fondo dice B Sapere che Lontano di qui Si muore Fa piacere È come stare In un luogo caldo E vedere fuori Dei vetri La neve 6 novembre Gorresio Racconta Che è stato Trasmesso Giorni fa L'ordine Ai giornali Di mettere In evidenza Il comunicato Stefani Sulla visita Di Mussolini A Littoria Nel quale Si diceva Che Il duce Ha fatto I gradini Del palazzo Del governo Con baldanza Giovanile 1942 24 febbraio E dicono La nostra patria La nostra Cara Italia Con una commozione Turistica Familiare E ipocrita Che non lascia Più speranza L'Italia Non potrà mai Emanciparsi Come unica Figlia Dall'affetto Interessato Di questi Genitori Per metà Retori Per metà Ladri 10 marzo Ieri In tram Mi sorpresi Ad osservare I volti Dei passeggeri Non un viso Intelligente Occhi Furbi Soltanto Ma nessuna Luce Di intelligenza Besti Socevoli Ubbidienti Che pensano Al pasto Nessuna Vera luce Di bontà Nemmeno Di crudeltà L'italiano È un personaggio Che abbiamo Costruito Poco a poco Su vecchi motivi Letterari Un tipo Simpatico Che amiamo Pur giudicandolo severamente Buon padre Lavoratore Gran cuore Appassionato Modesto Eccetera Eccetera Ma Lo conosciamo ben poco È ateo Pensa soltanto alle donne Ai quattrini Sogna di non lavorare Disprezza qualunque ordine sociale Non ama la natura Sa difendersi soltanto Dallo stato Dal dolore E dalla fame Siamo animali Feroci E casalinghi 13 luglio Dice Talarico Sbagliando Si impera Non è un refuso 16 luglio G Mi racconta Da vari mesi Viene alla radio Un funzionario Di polizia Detto alla persona Di Mussolini Grazie a lui Riusciamo Mia moglie e io Ad avere patate E carne in scatola In cambio Cerchiamo di fare Trasmettere per radio Certe sue canzoncine Ieri ho saputo che Fra le altre occupazioni Questo signore Ne esercita una Particolare È lui Che dà il colpo di grazia Ai condannati a morte Per reati politici Appena il plotone Di esecuzione Ha fatto fuoco Sul prigioniero Il nostro amico Si reca vicino Al cadavere Gli tira Due colpi Alla tempia Così Fra un'esecuzione E l'altra Costui scrive Canzonette d'amore Nostalgiche Canzonette Che mia moglie Ed io Facciamo trasmettere Alla radio Per mangiare Qualche patate in più 1943 Siamo a Roma 14 gennaio Si credono ribelli Perché non pagano Il biglietto del tramvai Al fattorino Il fattorino Ruba nel dare Il resto della moneta Perché si sente Bolshevico Il controllore Maltratti i passeggeri Perché sono odiati Borghesi Gli odiati Borghesi Spingono E schiacciano I piedi Ai loro simili Perché si sentono Vittime Di una società Infame E così via Qui c'è una nota Dopo l'8 settembre 1943 Il ribaltamento Di campo Dell'Italia Lunganesi Lascia la capitale E insieme al padre Ad alcuni amici Si mette in viaggio Verso il sud Il suo diario Cambia tono Diventa narrativo Per accogliere Le storie Le voci Dei personaggi Incontrati Lungo il percorso Dopo aver raggiunto Il territorio liberato Dagli angloamericani Si stabilisce a Napoli E qui resta Fino alla liberazione Di Roma Nel giugno 44 Quindi torna a Roma Liberata Primo luglio Ritorno a Roma Nulla è cambiato Tutto è intatto Il fascismo È eterno Quel che accadde ieri Si ripete Nello stesso modo Nell'avanti Di oggi Leggo questo brano Affirma Leto Operai Sono quelli Che hanno il viso Più chiaro Le spalle più erette La camminatura più forte Scandita In questi giorni Di convalescenza politica E morale Ecco Una nuova retorica Comincia Bisogna aggiornarsi Parlerà per sé Forse 7 agosto Alla volgarità E disonestà Dei gerarchi fascisti Si è sostituito Il moralismo Dei vecchi professori Assettati di vendette Perché perdettero Gli anni più belli Della loro giovinezza Nell'attesa Del crollo fascista Ora che il regime È caduto Hanno smarito Ogni ragione di vita E ogni argomento Non si sono accorti Che il fascismo Era il solo partito Che potesse giustificare La loro opposizione innocua Oggi Sono vedovi 8 agosto La parola d'ordine è Punire Si ha sete di punizioni Perché si crede Con ciò di liberarsi Di un triste passato Nel quale tutti Sono stati benissimo Ma naturalmente Ognuno è convinto Di non dover essere punito Perché il colpevole È sempre il vicino Di casa Siamo nel 44 Qua la vita Era diversa 12 agosto Non portare più La cravatta È un atto Di indipendenza Dai vincoli Borghesi 13 agosto Credono di essere di sinistra Perché mangiano il pesce Col coltello 14 agosto Molta paura in tutti Del comunismo Molta paura in tutti Di non sembrare comunisti Molta paura nel comunismo Di non piacere a tutti 16 agosto È la presunzione settaria Dei nuovi moralisti Che mette paura È la loro infinita voglia Di rifarsi Del tempo perduto Quello che mi preoccupa È la loro smisurata Ambizione Che desta sospetto Si sa come vanno Le faccende politiche In Italia Ci si conserva onesti Il tempo necessario Che basta Per poter accusare Gli avversari E prendergli poi Il posto 19 agosto Lei È democratico? Lo ero? Lo sarà ancora? Spero di no Perché? Perché dovrebbe tornare Il fascismo Soltanto sotto Una dittatura Riesco a credere Nella democrazia 4 ottobre Finalmente Una esatta definizione Del fascismo Di Alberto Consiglio Sull'Italia nuova di oggi Un assolutismo Temperato Dalla costante Inosservanza Della legge 9 ottobre Non sono le idee Che mi spaventano Ma le facce Che rappresentano Queste idee 10 ottobre Viene a farmi visita Don Lorenzo B Cappellano militare Che conobbe a Napoli Otto mesi fa Don Lorenzo Indossa la divisa Dei paracadutisti Con pugnale Distintivo D'argento Sul braccio Stellette Cinturone E decorazioni È un prete Fanatico Romagnolo Ribelle Ma non sa di preciso Contro chi ribellarsi Mi parla dei suoi ragazzi Che si sono battuti Come leoni Della rivoluzione Che bisogna concludere Della repubblica Che aveva fatto in fretta Ah io sono repubblicano Casa Savoia Deve andare via A proposito Sai dov'è la sede Del partito repubblicano? Mi chiede Mi voglio iscrivere subito Sono qui a Roma Di passaggio Domani parto Non so dove siano Gli uffici Del partito repubblicano Non mi sembra Dico Non mi sembra Che il partito repubblicano Sia il partito Più indicato Ad un sacerdote È un partito Di massoni Credi? Domanda Don Lorenzo Distratto E cambia discorso Trascinato Dalla foga Dall'entusiasmo E dalla fretta Che in lui Sono tutt'uno Alle quattro Vado da sua santità Ah il Papa È un grande Papa Non c'è nulla da dire È l'unica voce ascoltata E che cosa dici Della nostra Romagna? Credo che vi saranno Delle rivolte Ci sarà un certo macello Là c'è davvero Un clima rivoluzionario Domani parto Perché voglio essere in Romagna Non voglio mancare E tu 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 cosa fai? Niente Come? Niente Uno spirito libero Come te Sta in disparte E mi saluto in fretta Sorridente Agitando le sue lunghe O braccia 12 ottobre Non ho idee In questo momento Ho soltanto antipatie 1946 Milano 2 gennaio Una signora Mi racconta questo dialogo Con suo figlio Se sarai buono Ti darò una caramella Se sarai cattivo Ti picchierò Il bimbo risponde Picchiami Non mi diverto Essere buono 3 gennaio Il contenuto sociale Del suo romanzo Qual è? È che ho una moglie E tre figli Da mantenere 4 gennaio 4 gennaio I presenti Non sono mai stati fascisti 6 gennaio Una domanda Che non dobbiamo mai Rivolgere a nessuno Ma noi Dove ci siamo già incontrati? Specie in quegli anni lì 12 novembre Sono distratto Vago Approssimativo E anche snob 16 novembre Bisognerebbe scrivere Un saggio Sull'uso Che la nostra Borghesia fa Della congiunzione Avversativa Ma Ieri Ad esempio In casa P Un tale disse È un socialista Ma Possiede una bella moglie 18 novembre Conservazione Conservatore In un paese In cui non c'è nulla Da conservare Una generazione passa Un'altra viene E la terra Vive sempre Questa è Dell'Ecclesiaste 1 4 Ora c'è Un altro testo Da un altro testo Fatto di Una specie di Dizionario Intitolato Fa lo stesso Piccolo Dizionario Moderno Scritto Pubblicato Il 28 giugno Del 1953 Proletario Nella società Antica L'uomo libero Era proprietario E viceversa La società Capitalista Ha scisso Le due condizioni Ha inventato L'uomo Perfettamente libero Senza il becco Di un quattrino Padrone Soltanto Delle sue braccia Cioè Il proletario Esso può Se gli riesce Risparmiare Acquistare La lambretta Scioperare Ma raramente Può uscire Dalla sua condizione Di salariato Soltanto il Totocalcio Gli apre le vie Della proprietà Vale a dire Che il suo destino Dipende più dalla fortuna Che dalla democrazia Compianto E' una forma Di ammirazione Verso se stessi Politica Oggi Nel mondo Delle idee Come susa dire C'è un solo modo Di agire Pensare Contro Essere favorevoli A qualcosa O qualcuno E' già un modo Di rinunciare La propria libertà Io sono favorevole A tutti i manifesti Elettorali Che inveiscono Contro gli avversari Ma sono avverso A tutti i manifesti In cui si elogia Questo o quello Dovevo fare un giro Logico Per capire Giornalismo Non è Un'arte E' una tecnica Un modo particolare Di preparare il lettore Alla sorpresa finale Ogni parola Va scritta In funzione Dell'ultima risposta Per rendere soddisfatto Il lettore Di avere perduto tempo A leggere l'articolo Giornalista Giornalista E' chi sa spiegare Al pubblico Quel che Egli stesso Non ha capito Destino E il destino E' ciò che noi Non decidiamo Ma che il creatore Ha stabilito Ad esempio In un congresso Tenutosi a Zurigo La signorina Van Termiga Della unione Ex prigionieri Olandese Ha dichiarato Nel grande campo Femminile Di Ravensbrück Ogni tanto Erano ordinati Degli appelli Generali Questi appelli Preludevano A qualche nuova scelta Di vecchie O di malate Da mandare Nella camera gas Intanto Arrivavano pacchi Della croce rossa Svedese Che contenevano Anche vernice Da scarpe Nera Con questa vernice Si tingevano I capelli grigi Di certe vecchie Compagne E si salvavano Così Molte vite umane Il parroco Della Pineta Dalla Gazzetta Del Popolo Del 2 aprile 1953 Un prete Come quello A memoria D'uomo Non si era mai visto In tutte le Romagne Dove i sacerdoti Al pare degli altri Cittadini Sono quanto maestrosi E propensi Al disordine Si chiamava Don Celso E aveva la cura Delle anime Di una canonica In quel tratto Della Pineta Di Ravenna Che si stende Lungo il mare Era giunto lì In quella piccola chiesa Quando il villaggio Era abitato Soltanto Da pescatori Da operai Delle saline Un villaggio lieto Ridente Senza botteghe Senza cinema Senza farmacia E' vero che A pochi passi Oltre il canale C'era la diocesi Di Cervia Ma Quel po' D'acqua sporca Segnava Segnava un confine Pure l'ombra Matto Matto L'extrema libertà Lui era Lui era alto Magro Con una gran palandrana Di un nero stinto Dai riflessi verdastri Lo si vedeva passare In bicicletta Rapido Come il fulmine Seguito dal suo cane Bastardo Color pagliaio Ecco Don Celso Che va a insaccare Le nuvole Per la cena Diceva così La gente Scorgendolo Perché in verità Non si sapeva di preciso Quei che egli mangiasse Tanto erano scarsi Proventi Della parrocchia Di morti ricchi Ai quali Dir messa Allora Non ne capitava E il più delle volte Don Celso Diceva ai suoi parrocchiani Sì, sì La messa Ve la dico gratis Et amore dei Ma in paradiso Ci starete male Sarete leggeri Leggeri Sempre a digiuno Sempre per aria E Dio sa Solo la noia Che dovrete mandare giù E' meglio stare qui Sulla terra Il più lungo possibile C'è sempre tempo Per andare all'altro mondo Ma nel confessionale Don Celso Era severo A volte metteva fuori Un pugno di sotto la tenda Minacciando i devoti Peppino Vi torco le budella Se lo fate un'altra volta Parola d'onore Gridava Il suo santo preferito A cui rivolgeva Si rivolgeva Come ad uno di casa Era San Giuseppe Una grossa statua Di legno Colorato Ritta Su un piedistallo di gesso In una cappella Della chiesa Ma quando le faccende Gli andavano storte O quando una disgrazia Una grazia chiesta Tardava a venire Allora Don Celso Si rivolgeva Direttamente a San Giuseppe Prendeva San Giuseppe Lo volgeva col viso Contro il muro In castigo Che santo sei Gli gridava Tuttavia Se qualcuno Gli diceva Non vi dà più retti Il vostro santo Perché i tempi Sono cambiati Allora Don Celso Rispondeva No È soltanto un santo vecchio Si è stufato di fare miracoli Ai cialtroni Va a sbalzi Diciamo Poi prendeva la statua La scuoteva Come si scuote Una sveglia inceppata Su Su Che santo sei Gli diceva Fai uno sforzo Così San Giuseppe Ritornava con la faccia Volta verso il pubblico Gli è passata Spiegava Don Celso A differenza di ogni altro sacerdote Egli teneva in chiesa Il suo cane Durante la messa Lì Accovacciato Accanto all'altare Oh Non dà fastidio È un cane devoto Diceva Don Celso Ed è più intelligente Dell'onorevole E dell'illustrissimo Chi fosse Quell'illustrissimo Nessuno Lo seppe mai In quanto All'onorevole Invece Si diceva Trattarsi di Enrico Ferri Certo Era un prete Strano Che di stranezze Ne faceva Ogni giorno Una nuova Ma nessuno Se ne lamentava Perché Al momento buono Don Celso Era un uomo Capace di togliersi La maglia di dosso Per darla a un poveraccio Tuttavia Un giorno All'imbrunire Accadde un fattaccio Una certa vedova Ancora giovane E galante Recatasi il cimitero A piangere Sulla tomba Del defunto marito Udì a un tratto Una voce Che sembrava uscire Dal profondo Dirle Bugiardona Di una civetta Te la intendi Con il tale Eh La povera donna Cominciò a strillare Spaventata Alle sue grida Accorsero altre donne Che pregavano Lì accanto E cerca di qua Cerca di là Ad un tratto Saltò fuori Da una fossa E scappò via Qualcosa come un'ombra Alta Magra Nera Proprio simile Alla figura Di don Celso Nessuno Cavò mai Dalla testa Di quelle donne Che si trattasse Davvero Di lui Del parroco Un brutto mattino Morì fido Il cane Devoto Don Celso Fu preso Da tanto Dolore Che saltò La messa Non uscì più In bicicletta Nessuno Lo vide Per qualche giorno Poi Chi passò Davanti alla canonica Scoprì Che era sorto Nel giardino Un piccolo Monumento Di torba Una graziosa piramide Sormontata Da un cane Con una croce In bocca E sotto Su una lapide Di intonaco Era scritto Con la punta Di un chiodo Affido Celso Fedele La morte del cane Aprì un anno triste Nell'inverno A don Celso Fu tolta La confessione E minacce Di più severe Punizioni Cominciarono A ventilare Nell'aria Io sono un prete Di pineta Diceva Diversi dagli altri Io faccio razza Per conto mio Ma i tempi Erano cambiati Ormai Il piccolo villaggio Di pescatori Ora Era diventato Un luogo Di villeggiatura Estiva I bagnanti Le signore Bagnanti Soprattutto Non vedevano Di buon occhio Quel coso Lungo Nero Malandato Che correva In bicicletta Che insolentiva Le donne In costume da bagno In cucina L'ho vista io Con i miei occhi Come vero Il Dio Diceva Don Celso E questo fatto Gli parve Tanto straordinario Tanto miracoloso Che non ebbe più pace I miracoli ci sono Ci sono E come Diceva Colto da rimorsi Della sua vana Incredulità passata Ci sono Ci sono E si ammalò E morì Poco dopo La notizia La notizia corse In un baleno Da una casa All'altra Del paese E il paese Fu come Se si destasse All'improvviso Da un lungo sonno A molti Sembrò Di vedere Passare Don Cesso Come un fulmine Sulla sua bicicletta Con la soltana al vento E i più vecchi Capirono Che quella morte Segnava la fine Di un tempo Ormai finito Più povero Ma più libero Anche i vecchi anarchici Anche i vecchi rivoltosi Anche i vecchi Mangiapreti Dissero Di parruci Come quelli Non ne vedremo più E fu In un venerdì Di giugno Con grosse nubi Color piombo In cielo E un libeccio Maledetto Che passò Lungo il canale Diretto al cimitero Il funerale Di Don Celso La carrozza Era tirata Da un cavallo bianco Che correva Al galoppo Imbizzarrito E che nitriva E mai Mai Si era visto In tutte le Romagne Un funerale Più veloce Di quello Un ultimo racconto Un racconto È un po' Piesantino Questo Lo devo leggere Lo stesso Sarebbe Qui mi ha scritto Il curatore Mi ha scritto Eventualmente Come bis No Eh Però Però Devo dire È un po' Una palla Perché È un piccolo Saggetto Se si può dire così Un articolo Di un giornale Della Gazzetta Del Popolo Del 51 Dove Cerca di spiegare Perché La gente Legge Meno libri Cioè Siamo nel 51 E già si rilevava Che c'era la crisi Di libri Eravamo liberati Da 4 o 5 anni Praticamente Cioè Si leggeva Prima Più prima Non si capiva bene Però Da allora in poi C'è sempre la crisi Dei libri Fino ad arrivare I giorni nostri Ancora c'è la crisi Dei libri È una crisi strana Perché come si sa Come diceva Woody Allen Entrando In una libreria Diceva a lui Loro sono tanti A scrivere Ma io sono da solo A leggerli Perché Il problema è questo Si legge meno Si legge poco Ma Tutti quanti Hanno un libro Scritto Nel cassetto Giurate Tutti ne hanno Anche più di uno Comunque Ah se non lo leggo È un'analisi Proprio Se volete Da interrogarvi dopo Alla fine Se avete No ma è scritto bene Solo che Ha una cosa particolare Veramente Mentre leggevo Diceva Accidenti Lui analizza Tutti i motivi Per cui La gente Legge meno E Analizza Due o tre Che sono decisivi Siamo nel 51 Dice che La colpa di tutto È che la gente Non ha voglia di impegnarsi Perché Ormai Va al cinema E il cinema È la rovina Dei libri Perché il cinema Ti metti seduto E vedi le immagini I colori Le parole Le musiche Non fai un cazzo Perché se lei Ti aspetti Tutti Offrono già tutto loro Non c'è nessun impegno A leggere A mettersi lì da soli E poi Diceva che Altre cose I fumetti Tutto ciò La radio Ha Quando è venuto Poi la radio È finita Perché la gente Si mette lì Ad ascoltare la radio Ed è finita Oppure dice Sapete perché Non si legge oggi? Perché Praticamente Una volta Ci si metteva lì Con un libro Vicino al camino Ogni tanto Il ciocco Si alimentava un po' Si stava lì al camino Finché la braccia Insomma Col suo calorino Nell'unica stanza Riscaldata Oggi ci sono i termosifoni Ma li vedete La gente Mettersi con un libro Vicino al termosifone Per l'estero Non è più possibile Queste sono analisi Un po' Fanno un po' ridere Però è vero Ma lui Dice queste cose Nel 51 Doveva ancora Venire la televisione Allora dopo Se c'era crisi Nel 51 Immaginate dopo Che la televisione Ha messo in crisi Addirittura il cinema Tutti gli altri Perché sei a casa tua Fai così Cambia anche canale Poi dopo la televisione È venuto fuori Ormai C'è una rivoluzione Ma se volete Ve lo leggo Sì? Va bene Di recente Si è accesa Una viva Cercherò di leggerlo Non in maniera Professorale Perché se no È una parola Una viva Polemica Intorno al lento Ma sicuro Decadere Della vendita Di libri Enti e giornalisti In contrasto Sul miglior modo Di porvi rimedio Continuano a discutere Ora Le ragioni Che spiegano Questa progressiva Discesa Dell'acquisto Di libri Da parte del pubblico Sono varie Direi Insospettate Ad esempio Il diffondersi Del termosifone Come mezzo Di riscaldamento Nelle abitazioni Ha contribuito A non far leggere La gente 40-50 anni fa Quando le case Erano in grande numero Rellegrate Dalla fiamma Del caminetto La gente Dopo cena Leggeva Con più voglia Di oggi Star seduti Accanto alla braccia Di un tizzone Che si spegna lentamente Prima di andare a letto In una camera fredda Era un piacere Ormai perduto Nessuno Nessuno ora Si siede davanti al termosifone Nella sala da pranzo In cucina Visto che il termosifone È collocato in tutte le stanze La scomparsa Del caminetto Per di più Ha coinciso Col tramonto Di una società Risparmiatrice Abituata A non uscire Di casa Ogni sera E a trovare piacere In svaghi Oggetti Reputati noiosi Come la lettura Di libri Il gioco Della tombola I solitari E La conversazione E se L'illuminazione Elettrica Sembrò portare Giovamento Alla lettura Quando scorparvero Le candele I lumi A petrolio E a gas Ci fu D'altro canto Una maggior voglia Nel pubblico Di uscire di casa Per passeggiare Nelle vie Illuminate A studiare bene Questa faccenda Si può scoprire Poi che La poca luce E la penombra Giovavano Al raccoglimento Del lettore Ancora oggi Quando cercate Di vivere In luoghi Illuminati Dalla candela O da un lume A petrolio Cercogliamo Di provare Più piacere A leggere La nostra attenzione Si dedica Alla contemplazione Per leggere Si può aggiungere Che i libri Stessi Variano Secondo l'ambiente In cui sono scritti E a cui si rivolgono Nessuno scrive più Pensando a un lettore Seduto davanti A un caminetto Con molto tempo Da perdere davanti a sé E nessuno oggi Scrive più E ha il tempo E anche la calma E il gusto Di dedicarsi Alle letture Di 50 anni fa A meno che Non si obbedisca A particolari interessi Un uomo di media cultura Si annoia a seguire Siamo nel 51 Noi siamo ancora famosi Nel mondo Per quei film Di quei 4-5 anni là Chi va al cinema Non soltanto Sottrae ai libri Tempo e quattrini Ma resta tanto seduto Dominato da quello Da non potere più Tornare alla lettura Oltre a vicende D'ogni luogo Lo schermo Fornisce Un succedersi Di immagini vive Accompagnate da suoni E ciò indebolisce La capacità fantastica Dello spettatore A cui tutto È reso facile Nessun libro Darà mai Al lettore medio La gioia di un film È duro però Siamo in una biblioteca L'avete scelto apposta La gioia di un film Che richiede Scarsa attenzione E concede più Varietà di sensazioni Molte volte Il pubblico Dopo aver assistito A un film Vuole leggere La storia Da cui quella Pelicola fu tratta Ma Ne resta deluso Anche se si tratta Di Promessi Sposi O dell'otello Ciò perché Né Manzoni Né Shakespeare Riescono a gareggiare Con la tecnica Del cinema Più rapida Più varia E perfino assorretta Dall'aiuto Del colore Il cinema Poi A differenza Dei libri A seconda L'inclinazione Del pubblico Più di ogni Cattivo libro Ne segue le abitudini Ne solletica I difetti E dove non riesce A chiarire La propria morale Si sbroglia Con l'aiuto Della musica Dei paesaggi A confronto Del cinema La lettura Sta diventando Uno svago Che richiede Troppa fatica Destinato A rallegrare Pochi intimi L'analfabetismo L'ignoranza Diffusa Giovano più A leggere E alla cultura Di quanto Non giovi Una sapienza Popolare Diffusa A forza Di diluire Il sapere Delle masse E alle masse Avremo Un minor numero Di persone Erudite Da contrapporre All'esercito Di mezze cartucce Che conoscono Le prime nozioni Della scienza E della storia In pillole Se pensiamo All'internet Oggi C'è del vero Il terzo nemico Il più recente È la radio Il nuovo mezzo Di cultura popolare Che si associa Al calorifero È un accostamento Ardito Rimanere In una casa Ben riscaldata Ad ascoltare Il non sempre Brillante Programma Radiofonico È un modo Comodo Di dormire Ad occhi aperti Di passare Da un punto All'altro Del globo Senza muovere Un passo Ma oltre Alla comodità Che il cinema E la radio Offrono Al pubblico Vi è una ragione Profonda Che spinge Quest'ultimo Ad allontanarsi Dai libri Ed è che Un libro Bello o brutto Richiede sempre Uno sforzo Dal lettore Lo costringe Se non altro A ricordare Le pagine lette Il giorno avanti Mentre il cinema E il radio Non richiedono Che una minima Attenzione Non soltanto Ma a lungo andare Essi diventano Un'abitudine Del pubblico E chi si è abituato A ricevere Senza sforzo Attraverso L'immagine E la voce Non è poi tanto Disposto Ad affrontare Altri mezzi Di concorrenza Più pesanti Il mondo moderno Tende a semplificare E a livellare Ogni cosa Oggi tutto Si compendia Si riduce All'essenziale Al minimo Come il prodotto In scatola E contrapposto A quello naturale Così il sapere In pillole E contrapposto Alla cultura A vantaggio Dell'ignoranza Generale È naturale Dunque Che il cinema E la radio Alla fine Divengano Essi stessi Non più Mezzi di diffusione Della cultura Ma La nuova cultura O qualcosa di simile Che sta a sé Da questi due Moderni mezzi Di propaganda Nasce il quarto Nemico Dei libri E cioè Il giornale Illustrato Benché i direttori Dei nostri giornali A rotocalco Facciano il possibile Per tenere alto Il decoro Delle funzioni Della carta stampata Tuttavia Essi Pur di soddisfare Alle esigenze Dei proprietari Cioè Delle grosse tirature Sono costretti A ubbidire Alle leggi Del cinema E della radio Ad assecondare I vizi Del pubblico Il suo gusto E la sua volgarità Si assiste così Al tramonto Di quelle virtù Su cui la stampa Fondò il suo potere morale Vediamo infatti Il nascere Di quella nuova Moralità pubblica Capovolta Senza confini Che si chiama La pubblicità Il bene Il bello Il giusto Sono termini Di perfezione Miti Aspirazioni Destinate a Cedere il passo Alla nuova dea La notorietà Ora Si tratta soltanto Di farsi un nome Di uscire dal buio Delle masse Con qualsiasi mezzo La pubblicità Avanza implacabile Con l'aiuto Della tecnica Del proletariato E del capitalismo È naturale È naturale che al libro In questo nuovo mondo Tocchi un posto Nell'ultima fila Beh direi che È da provare Quasi in toto Perché fa un'analisi Anticipata Di quello che dopo Succederà Ed è veramente Illuminante Illuminante Quindi con questo Bis Abbiamo terminato La lettura Grazie a voi Grazie 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 a tutti